Video 44 parte 8 Come ho dipinto questa casa in neve Dipingo l'ombra della casa Io uso lo stesso colore delle montagne Il colore è blu cobalto e rosso magenta e bianco Aggiungo bianco e faccio un blu brillante Dipingo il dettaglio della zona in ombra Dipingo il dettaglio della zona in ombra Questo colore si aggiunge una terza dimensione alle ombre Questa lezione continua in parte 9 Grazie per la visione